Allora oggi è l'elemento di bodybuilding Bodybuilding, insegno un po' di bodybuilding Cosa che facciamo? Schiena, tricipiti, addome e femorali Femorali molto probabilmente non saranno ripresi perché mi morirà prima il vecchietto Penso che creperò prima A tricipiti già lo salutiamo E niente, vi aggiorniamo dopo Ci vediamo dopo E niente, vi aggiorniamo 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 dopo Oh 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 E niente, vi aggiorniamo dopo 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 no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.